In Calabria per le iniziative tra il 3 e il 9 giugno per il MAB si è pensato di favorire un'incarerazione, una progettualità comune. Sicuramente quattro diocesi che già lavorano fanno lavorare questi tre istituti insieme, archivi, musei, biblioteche diocesani, faranno partire dai progetti che sono comuni. Questo già però è il complemento di un percorso comune dove i tre istituti lavorano insieme, particolarmente altre iniziative che riguardano mostre, quindi partono dalla ricerca archivistica, sostenuta anche dalle biblioteche e sostenuta chiaramente dalle opere esposte ai musei. Questo fa interagire sempre di più gli istituti e rende unitaria l'azione che diventa di fatto poi pastorale.